che finisce tra i piedi di Egidi, al limite dell'aria Egidi, tira Coffini, vola e mette il calcio d'angolo la vaniglia riesce a rifiutare il calcio d'angolo, il calcio d'angolo, il calcio d'angolo, il calcio d'angolo verso Catano che cerca il pallonetto il pallonetto che si infila in rete, quindi la contro rimonta col sinistro, forse col domi su un attestario, si prosegue in volontarietà, buona azione di Zangari in area di rigore, Zangari pallonetto ed è un gol straordinario, quello di Zangari e poi va a partire, una conclusione dalla grandissima distanza del gol del Parigi palla tra le linee, bello l'inserimento, palla poi per Spada che cerca di liberare il destro serve Esposito che calcia col sinistro, traversa dopo la conclusione e poi Spada intervento miracoloso ora rimane ancora in possesso tra i 3 di per Roma Nord con Astorini che fa al nero dell'aria, adesso Capiolo, finta il tiro, se la sposta sul sinistro un'altra finta e poi batte sul primo palo Marcheggiani Giacinti sale palla al piede di sotto ancora Giacinti prova addirittura il pallonetto che finisce in porta nonostante il tocco di Moriconi Giacinti può correre ma sopra andrà dal fastidio astendando il tacco si libera del pallone Giacinti il filtrante bene per Di Consiglio che si lunga la palla con la punta prova a prendere il portiere poi sulla ribattuta arriva il secondo gol del Maccabi arriva anche la doppietta del numero 10 Di Consiglio 2 a 0 Maccabi, Atletico Aurelio solo il fischio dell'arbitro che arriva ora parte Bianco, palla direttamente in porta che va sotto l'incrocio dei pali gran gol di Bianco a salire palla al piede punta di Dilektis, se la porta sul destro cambia gioco per Esposito la mezza rovesciata per un gol straordinario del numero 10 gira il numero 9 caccia col sinistro e chiude qui il match Giro un gol straordinario di Lucio Capoli ancora verti a battere con il destro dall'inzionare la Tresic Roma Nord ma arriva l'Eurogoal volante del numero 13 De Dilektis che prova a crearsi lo spazio per il destro lo tenta la parata di Morigoni il fischio del direttore di gara il destro di Spagnoletto interessante colpo di destra c'è il gol il gol del vantaggio della formazione ospite il Maccabi di 4-5 con 1-0 grazie al colpo di destra di Sed pronto Pietrangeli lui col destro che gira pallone entra in rete che gol di Pietrangeli su caccia piazzato il vado per ripalla Sportuno con Catalano che palla dribbling sta per entrare in area di rigore lo fa adesso conclusione palla in rete 4-2 Sportuno su caccia piazzato Grazie a tutti Grazie a tutti